Un servizio di trasporto turistico su navetta nel centro urbano di Padula per favorire la presenza dei turisti e il traffico verso i principali luoghi di attrazione ai cittadini nel periodo luglio-ottobre. Il Comune ha di recente approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione. Parte sabato prossimo, 6 luglio, da quando sarà ufficialmente in funzione e consentirà ai turisti di visitare agevolmente le bellezze del centro cittadino. La navetta gratuita porterà, partendo dalla Certosa di San Lorenzo, il pubblico invia 20 Settembre, San Clemente, Piazza Umberto I, San Paolo, Battisterio di San Giovanni in Fonte per tornare alla Certosa di San Lorenzo. In un percorso circolare, orari prestabiliti, il servizio sarà attivo tutti i sabati con una corsa giornaliera e le domeniche e i festivi con due corse al giorno, da sabato prossimo fino al 27 ottobre. Sarà totale carico del Comune di Padula, quindi gratuito per l'utenza. L'amministrazione comunale per il periodo estivo ha deciso di implementare il servizio di navetta Certosa, Battisterio di San Giovanni in Fonte, centro storico, con l'obiettivo di consolidare la vocazione turistica del territorio, considerato il flusso turistico in significativa e costante crescita, così come l'aumento del traffico veicolare proprio del periodo, e promuovere e valorizzare musei civici oggetto dell'accordo di valorizzazione tra il Comune e il Polo Museale della Campania.